Il treno alto a velocità, traccia rossa, 95, 184, nelle ore 14.31, per Milano Centrale, e in partenza dal Milano 6. Ferma Roma Timottina, Firenze, Santa Maria Novella, Bologna Centrale. Fuertea, Nazio, flowers, Bologna Centrale, Sura,vit, La Cessa,renota Centrale, Sura, Stato, e in partenza van Scara, Portilla, Comunicata, I in partenza, Acast, Ferma, Loop, Pro, Prima, Climbs, Ferma, Acast, Ferma, Crescap, Ferma, Barra, Sustent, I, M, O, S, Ferma. Hoare, esatum, hoare, esatum, hoare, esatum, hoare, esatum. Grazie a tutti.